Proprio un buongiorno, siete pronte? Ho un'idea per il frazionamento del carbonio. Oh, grazie, ma starò bene. Ieri sera un ometto molto speciale mi ha dato una dritta. Ottimo, non sanno di chi tu stia parlando. Io prendo le pipette. Io ti aiuto a portarle. Non vedo l'ora di provare la tua cosa del culo. No, la cosa del culo non è in senso classico, è più un modo di usare il culo per stare bene. Cioè, è un modo di usare il culo per raggiungere... Ah, dannazione, papà!